Ci siamo molto impegnati per questo lavoro, abbiamo speso molte ore e quindi per noi è molto importante andare a fare questa prova proprio al CERN con dei veri ricercatori. Luca è uno degli otto studenti del liceo scientifico onesti di Fermo che hanno conseguito un grosso obiettivo. Hanno vinto l'edizione 2017 del concorso Beamline for Schools promosso dal CERN di Ginevra. Per questo la provincia e il comune hanno voluto organizzare un incontro per conferire loro dei riconoscimenti. Insieme a loro ha vinto anche una squadra canadese. Ora a settembre potranno eseguire il loro esperimento nel prestigioso centro di ricerca internazionale. Al concorso hanno partecipato ben 180 scuole da 43 diversi paesi per un totale di 1500 studenti. Il loro esperimento consiste nel testare un rivelatore Cerenkov della scuola che osserva le particelle elementari che viaggiano più veloci della luce nell'aria sulla linea di fascia del CERN. Si tratta di un rivelatore realizzato con materiali economici e facilmente reperibili. Abbiamo realizzato un detector, cioè una scatola in grado di rilevare attraverso degli opportuni sensori un fenomeno che avviene dentro la scatola. Il fenomeno si chiama luce Cerenkov ed è una luce blu, una luce tendente all'ultravioletto, che si crea quando delle particelle molto molto veloci attraversano la scatola dove all'interno abbiamo messo dell'acqua distillata. I nostri sensori dovrebbero essere in grado di captare questa debolissima luce emessa dalle particelle nel loro attraversamento dell'acqua. È un fenomeno, luce Cerenkov, sfruttato in tutti i laboratori del mondo. Ci sono anche dei grandi rivelatori, per esempio nell'America Latina, ci sono dei grandi rivelatori proprio a luce Cerenkov. La novità del nostro progetto didattico è stata quella di realizzare un piccolo rilevatore per luce Cerenkov con un sensore CMOS di una macchina fotografica, di una camera fotografica. Per la teoria della relatività, nessuna particella può viaggiare a una velocità superiore a quella della luce nel vuoto. In un mezzo denso, però, la velocità di propagazione della luce risulta più bassa, quindi una particella può superare la sua velocità ed emettere radiazioni. Certamente non si tratta di semplici fotografie, ma vengono realizzate in condizioni estreme. Ora i ragazzi stanno costruendo un nuovo rivelatore da portare a Ginevra a settembre. Sperano di vederlo all'opera nei dieci giorni che rimarranno in Svizzera. La soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, ex studente del liceo.